Segreti che i cinema non vogliono farci sapere Spesso il volume nel cinema è molto alto Infatti durante le scene disparatorie ed esplosioni Il volume può arrivare fino a 130 decibel Che equivale a stare a 100 metri da un jet in fase di decollo Spesso i dipendenti di un cinema Possono vedere i film che preferiscono gratuitamente In questo modo infatti saranno più bravi a rispondere alle domande dei clienti Perché hanno effettivamente visto il film I cinema non sono sempre molto puliti Questo è perché le addette le pulizie hanno solo pochi minuti Per pulire prima che inizi il prossimo film I film non iniziano mai all'orario stabilito Questo è fatto apposta dai cinema per venderti degli snack Ma soprattutto pubblicità e anteprime accattivanti Dei film che ci saranno nei prossimi giorni Per convincerti a tornare